Riprendiamo l'esercizio che avevamo lasciato. Dovevamo occuparci di rappresentare delle attività relative a delle officine. Vi ricordo il testo brevemente. Le officine hanno un nome, identificante, indirizzo e telefono. Le automobili hanno targhe, identificante, modello e proprietario. I clienti delle automobili, proprietari di automobili che hanno un codice fiscale, cognome, nome e telefono. Poi ogni cliente può essere proprietario di più automobili. Gli interventi di manutenzione, ognuno effettuato presso un'officina e con numero progressivo unico nell'ambito della rispettiva officina. Date di inizio e di fine, pezzi di ricambio utilizzati con le rispettive quantità, numero di ore di mano d'opera, pezzi di ricambio con codice, nome e costo unitario. Questo è tutto ciò che noi vogliamo memorizzare. Da qui avevamo costruito questo schema R dove abbiamo le officine che hanno appunto nome come identificatore univoco, indirizzo e telefono. Ogni officina può eseguire da 1 a n interventi. Ogni intervento ha un numero che identifica l'intervento nell'ambito della rispettiva officina, quindi intervento è un'entità debole con identificazione esterna. Poi per ogni intervento memorizziamo la data di inizio, la data di fine che è opzionale ovviamente, fino a quando l'intervento non è terminato, questo valore non sarà presente e anche le ore di mano d'opera sono un attributo opzionale perché fino a quando non è terminato l'intervento non sappiamo quante ore di mano d'opera sono state necessarie per portarlo a termine. Ogni intervento utilizza da 0 a n pezzi di ricambio, l'attributo quantità si trova sull'associazione utilizza. Per quanto riguarda i ricambi, questi hanno un codice, un nome e un costo, il codice identificante, e un ricambio può essere utilizzato in uno o più interventi. Questo perché non si intende il singolo ricambio, ma la tipologia di ricambio. Un intervento è relativo ad una sola automobile, mentre un'automobile può essere sottoposta a più interventi. Per ogni automobile memorizziamo la targa identificante e il modello. E infine i clienti che possiedono le automobili, un cliente può possedere da uno o n automobili e un'automobile è posseduta da uno o un solo cliente. Il cliente è rappresentato con il codice fiscale identificante, il nome e il cognome e il numero di telefono. Il passaggio successivo è stato quello di ricavare dallo schema R lo schema logico, per ogni entità abbiamo riportato gli attributi e poi abbiamo tradotto le associazioni. Allora, per quanto riguarda l'associazione esegue, l'officina esegue intervento, trattandosi di associazione uno a molti, abbiamo preso la chiave primaria di officina e l'abbiamo messa come chiave esterna in intervento. Quindi intervento ha come chiave esterna il nome dell'officina, la chiave primaria dell'officina. Osservate che intervento ha una chiave primaria composta proprio perché si tratta di entità debole, quindi è identificata mediante la chiave primaria dell'entità officina insieme al numero di intervento. L'associazione utilizza è invece un'associazione molti e molti, quindi abbiamo aggiunto un'ulteriore tabella, utilizza, avente come chiave primaria, l'unione delle chiavi primarie di delle associazioni intervento e ricambio, quindi intervento e ricambio, codice ricambio, e poi la chiave primaria di intervento, più l'attributo quantità che si trova sull'associazione. Per ciò che riguarda l'associazione relativo a, è un'associazione uno a molti, quindi la chiave di automobile, chiave primaria, diventa chiave esterna in intervento, quindi in intervento abbiamo anche la chiave esterna che corrisponde alla chiave primaria di automobile, targa. Infine, possiede, sempre associazione uno a molti, e quindi la chiave di cliente, chiave primaria, va come chiave esterna in automobile. Quindi in automobile abbiamo la chiave esterna correlata alla tabella cliente. Ora possiamo implementare il database. Utilizzeremo l'istruzione Create Table per andare a creare le varie tabelle. Vi ricordo che Create Table ha la seguente sintassi, Create Table, seguito dal nome della tabella, aperta tonda, poi per ogni attributo, scriviamo, o colonna, scriviamo il suo nome e il suo tipo, seguito da una virgola. E l'ultima riga, invece, non deve avere la virgola. E poi si chiude il tutto con una parentesi tonda. Esempio, se vogliamo creare la tabella studente con questi attributi, nome, cognome, classe, scriveremo Create Table Studente, nome della tabella, poi i vari attributi, nome, cognome, classe, con i loro tipi. VARCHAR20, una stringa di lunghezza 20, lunghezza massima 20, cognome, VARCHAR20, e classe, CHAR2. Ho scritto CHAR perché volevo evidenziare che c'è una possibilità di rappresentare le stringhe in due modi diversi. VARCHAR indica una stringa di lunghezza variabile, ossia di lunghezza massima 20, ma nel caso in cui il numero di caratteri che compongono la stringa sia inferiore, lo spazio occupato sarà quello effettivamente richiesto dalla stringa. Mentre nel caso di CHAR, questa stringa non ha lunghezza variabile perché indipendentemente dal contenuto occupa sempre due caratteri. Poi è necessario definire dei vincoli di integrità. Quali sono questi vincoli? Beh, possiamo iniziare a parlare dei vincoli di integrità di dominio e vi leggo che l'integrità di dominio è garantita dal fatto che in ogni istante i valori assunti da ciascun attributo devono appartenere al dominio o essere il valore null. quindi un primo vincolo di integrità di dominio è questo not null serve per indicare che un attributo non può avere valore nullo. Quindi se supponiamo che il nome e il cognome di questi studenti non possa essere nullo allora dovremo aggiungere vicino alla dichiarazione dell'attributo questo vincolo not null in questo esempio invece si suppone che la classe possa assumere valori nulli perché per esempio possiamo immaginare che in fase di inserimento degli studenti non si conosca ancora la classe di appartenenza quindi la si specificherà magari in un secondo momento. un altro vincolo è quello di check mediante il quale andiamo a restringere l'insieme dei valori che può assumere un determinato attributo non tutti i database management system consentono di esprimere questo vincolo in generale si parla di vincolo di check con tra parentesi un'espressione che specifica quelli che sono i vincoli per esempio supponiamo di avere questa tabella studente e di voler imporre si vede così meglio di voler imporre il vincolo che nell'attributo sesso i valori ammessi sono solo m ed f in questo caso dovremmo andare a scrivere una cosa come questa vicino all'attributo aggiungere il vincolo check tra parentesi tonde specificare le condizioni sesso uguale m or sesso uguale f c'è poi ancora un altro vincolo che è default in alcuni casi può essere utile assegnare un attributo un valore di default che viene proposto in fase di emissione dei dati che può però naturalmente essere modificato in questo caso per default andiamo a specificare come valore m quindi quando si inserisce un studente viene proposto nel campo sesto m ma è sempre possibile modificarlo ci sono poi i vincoli di integrità dell'entità la regola di integrità dell'entità stabilisce che tutti gli attributi che costituiscono la chiave primaria non possono assumere valore null quindi possiamo andare a scrivere questo vincolo che indica la chiave primaria con la parola chiave primary key la si può mettere vicina alla dichiarazione dell'attributo che è chiave primaria nel caso in cui una chiave primaria sia un intero possiamo anche aggiungere questa clausola di auto-incremento auto-inter-score-increment attenzione perché se la chiave primaria è costituita da più attributi quindi è composta allora non è possibile scrivere in questo caso abbiamo nome e cognome che costituiscono la chiave primaria che è un esempio non reale nel senso che non è possibile identificare qualcuno con nome e cognome però diciamo semplifica un po' adesso l'esempio quindi nel caso in cui la chiave primaria sia costituita da due attributi o anche più di due non è possibile andare a mettere vicino agli attributi primary key ma bisogna scrivere normalmente viene messo al fondo primary key e tra parentesi l'elenco degli attributi che costituiscono la chiave primaria separati da virgole quando un attributo è chiave primaria non c'è bisogno non c'è bisogno di specificare not null anche se alcuni dbms mysql per esempio lo fa quando genera il codice perché magari andiamo a creare le tabelle mediante l'interfaccia grafica lo aggiunge quindi non è un errore mettere insieme primary key e not null semplicemente quando scriviamo il codice a mano non è necessario un altro vincolo è unique io faccio sempre questo esempio quando parlo di questo vincolo supponiamo di avere una tabella di utenti di un sito di un'applicazione web per ogni utente memorizziamo lo username la password e anche l'email per eventuali comunicazioni ora se la chiave primaria è costituita da username e password tanto per fare un esempio è ovvio che ogni utente è identificato attraverso mediante questi due attributi l'email non fa parte della chiave primaria in questo caso però nonostante ciò noi non vogliamo che l'email venga ripetuta cioè vogliamo impedire ad un utente di registrarsi con username e password diverse più volte utilizzando la stessa email in questo caso andiamo ad imporre il vincolo unique al campo email altri vincoli molto importanti sono i vincoli di integrità referenziale che permettono di esprimere la correlazione tra tabelle per esempio qui abbiamo una tabella prodotto con codice nome e quantità e codice magazzino che fa riferimento ad un'altra tabella magazzino dove abbiamo la chiave primaria codice poi un campo nome e un campo indirizzo allora questi due campi codice chiave primaria e codice magazzino nella tabella prodotto sono campi sulla base dei quali si fa appunto la correlazione codice magazzino viene chiamato chiave straniera o esterna in inglese foreign key scrivendo il codice quindi dobbiamo in un qualche modo indicare che c'è questo vincolo che appunto ripeto si chiama vincolo di integrità referenziale come lo facciamo utilizzando ho la clausola la clausola foreign key che può essere anche in forma abbreviata vediamo in quali casi può essere abbreviata allora torniamo al nostro esempio della tabella magazzino tabella prodotto abbiamo detto che il campo codice magazzino codice mag e chiave esterna e andremo a rappresentarlo scrivendo accanto codice mag references magazzino codice cioè references nome della tabella correlata campo chiave primaria della tabella correlata quindi questo attributo questa chiave esterna fa riferimento alla tabella magazzino campo codice che è la chiave primaria nel caso in cui la chiave esterna sia composta non possiamo usare quella formula abbreviata ma dobbiamo utilizzare la formula completa che è foreign key nome degli attributi che costituiscono la chiave esterna seguito da references e di nuovo il nome della tabella e il nome degli attributi che costituiscono la chiave primaria nella tabella correlata esempio tabella paziente con chiave primaria cognome nome che è assurdo lo so però mi serve per questo esempio e tabella esame che ha chiave nome esame e poi i due attributi che costituiscono la chiave esterna la foreign key allora in questo caso la tabella esame la create table per la tabella esame avrà al fondo foreign key tra parentesi tonde il cognome del paziente e il nome del paziente che costituiscono la chiave esterna composta references tabella paziente e cognome e nome che sono la chiave primaria di paziente utilizzando MySQL quindi faccio questa precisazione conviene se si scrive il codice e non si creano le tabelle manualmente mediante interfaccia grafica conviene sempre usare questa formula completa poiché in questo caso vengono create le relazioni i vincoli di integrità referenziale diversamente se si usa la formula quella più abbreviata solo references bisogna poi andarle a specificare manualmente queste relazioni per i vincoli di integrità referenziale possiamo anche specificare le cascade rules cosa sono allora ci dicono come bisogna comportarsi quando vengono fatte delle operazioni sulle chiavi primarie delle tabelle correlate le possibili opzioni di solito sono le seguenti restrict significa che se qualcuno cerca di modificare di fare qualche operazione sulla chiave primaria della tabella correlata glielo impediamo cascade invece significa che se andiamo a fare qualche operazione sulla chiave primaria della tabella correlata questa stessa operazione si riflette anche su tutte le occorrenze che si trovano all'interno della tabella chiamiamola secondaria quella dove si trova la foreign key per quanto riguarda sempre queste cascade rules abbiamo poi altre impostazioni che dipendono ovviamente anche dal DBMS che stiamo utilizzando per esempio ci può essere set default che significa andare a impostare una volta che viene fatta appunto un'operazione di update o di cancellazione della chiave primaria andare a impostare nei campi correlati i valori di default oppure impostarli a null ammesso che i valori nulli siano consentiti quindi per ogni chiave esterna noi dobbiamo andare a specificare queste regole utilizzando le parole chiave on delete e on update seguite dalla regola che abbiamo scelta prendiamo la tabella esame che abbiamo visto in precedenza aggiungiamo le cascade rules questa tabella è correlata alla tabella paziente il paziente identificato mediante nome e cognome quindi andiamo a specificare che nel caso in cui venga cancellata la chiave primaria del paziente bisogna a cascata andare a cancellare tutte le occorrenze in questa tabella che sono riferite a quel paziente eliminato e nel caso in cui invece venga tentata la modifica di una chiave primaria nella tabella paziente noi lo impediremo con questa clausola restrict bene andiamo a creare il database quindi database nome del database officine create dunque vi farò vedere come creare una tabella utilizzando l'interfaccia grafica e poi vedremo invece come crearla con il codice SQL quindi torniamo all'esercizio precedente andiamo a creare la tabella automobile aspettate cliente 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 con codice fiscale nome cognome telefono quindi inserisco il nome della tabella numero di colonne lo posso impostare ma posso sempre modificarlo in seguito qua noi abbiamo esattamente quattro colonne quindi va bene così clicchiamo su go scrivo qui dove c'è scritto name in questa colonna i nomi degli attributi quindi cod fiscale nome cognome telefono nome cognome telefono mettiamo poi il tipo di questi attributi quindi adesso non ricordo a memoria codice fiscale un varchar di 16 il nome cognome un varchar di 100 telefono e un varchar di 13 allora varchar di 16 varchar di 100 varchar di 100 di lunghezza 100 varchar di 13 nella pratica poi in realtà si preferisce avere come chiavi primarie dei dati numerici interi possibilmente con autoincremento però insomma noi stiamo facendo solo un esercizio quindi useremo il codice fiscale come chiave primaria e allora vado a impostarlo come chiave primaria cliccando qui su index e scegliendo primary vedete che qua ci sono anche c'è anche il vincolo unique ok non ho campi opzionali quindi non devo fare nient'altro se non salvare ed ecco qua cliente qui prima non si vedeva vado ora a creare la tabella automobile allora la tabella automobile ha un attributo targa varciar di 7 il modello varciar di 100 e codice fiscale varciar di 16 che è la chiave esterna che fa riferimento cliente automobili 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 targa modello modello e poi cod fisc la targa la targa abbiamo detto un varciar di 7 il modello un varciar di 100 e codice fiscale un varciar di 16 salviamo salviamo e ci troviamo l'automobile qui nel database officine per specificare la relazione il vincolo di integrità referenziale clicco su relation view scelgo la chiave esterna che è il codice fiscale il database officine la tabella correlata che è cliente e in automatico compare la chiave primaria della tabella cliente opzionalmente posso segnare anche un nome al vincolo ora passiamo alle cascade di huls allora vediamo perché non ricordo qua non avevo specificato nulla quindi inventiamoci qualche cosa supponiamo che nel caso in cui venga eliminato il codice fiscale quindi on delete facciamo un restrict e un update un cascade possiamo salvare se ci fosse un altro cioè se la chiave esterna fosse composta posso aggiungere qua con add column un altro attributo salviamo qua si può vedere qual è l'istruzione SQL che è stata eseguita è stata aggiunta una foreign key possiamo creare le tabelle anche scrivendo proprio il codice SQL per esempio andiamo a creare la tabella ricambio copio questo codice poi vado a selezionare naturalmente il database officine e la scheda SQL e incollo il codice bisogna solo fare attenzione quando si fa copia e incolla agli apici perché spesso danno degli errori quindi bisogna riscriverli ora vado ad eseguire la query tutto sembra andato a buon fine in effetti è così difatti abbiamo creato la tabella ricambio con codice nome costo e codice chiave primaria in modo analogo creiamo anche la tabella officina quindi andiamo su SQL incollo ed eseguo ecco la tabella officina adesso passiamo a creare la tabella intervento la tabella intervento ha una chiave primaria composta da nome officina e numero poi ha dei suoi altri attributi e due foreign key nome officina che fa riferimento a officina e targa che fa riferimento ad automobile quindi il codice è questo creatable intervento nome officina verciar 100 numero int 9 sono i due attributi che compongono la chiave primaria e potete vedere che il vincolo di chiave primaria si trova qui primary key da parentesi ci sono i due attributi poi vari attributi numero data inizio data fine ora in mano d'opera targa targa e una foreign key e di fatti abbiamo qui il vincolo di foreign key targa references automobile targa con le due regole on delete cascade on update cascade analogamente il nome dell'officina e chiave esterna e quindi abbiamo una regola analoga per questo attributo proviamo a eseguire questa query allora verifico che non ci siano errori sembrati no eseguo invece un errore c'è come faccio a capire qual è l'errore vado a vedere i dettagli e qua posso vedere che c'è un problema con questa foreign key perché non può trovare l'indice nella tabella a cui facciamo riferimento allora vuol dire che c'è qualche problema sulla tabella automobile in effetti c'è un errore perché ho dimenticato di indicare che targa è la chiave primaria quindi seleziono targa e vado a cliccare su primary provo ora a creare di nuovo la tabella intervento questa volta l'operazione è andata a buon fine questa è la tabella intervento vedete che la chiave primaria è correttamente impostata e non solo è stata impostata anche sono stati impostati i vincoli di integrità referenziale creò l'ultima tabella utilizza quindi ho creato il mio database ora è utile magari andarlo a esportare e salvarlo da qualche parte verificate di aver selezionato il database scegliete export e poi cliccate su go chiederà di salvare da qualche parte lo script SQL lo salvate e se dovesse essere necessario poi successivamente potete importarlo cliccando qui su scegli i file andando a recuperare lo script e poi ovviamente confermando fate attenzione perché se volete importare lo script SQL prima dovete creare il database nel caso in cui il database non esistesse ancora tutti i materiali li trovate sulla nostra piattaforma di e-learning ma li allegherò anche nella descrizione di questo video come proseguiremo andremo a considerare e a studiare quelle che sono le funzionalità richieste per questa applicazione per la gestione delle officine e andremo a scrivere il relativo codice appunto per poter gestire le varie funzionalità per la gestione